Nella notte i ladri hanno fatto visita alla casemmetta San Frediano. Quando uno dei 54 associati della Onlus, Amici delle Mura, si è recato per aprire la sede come ogni giorno, si è trovato di fronte a una vera e propria scena del reato. È scattata subito la denuncia ai carabinieri di Lucca, ma a fare scalpore è il valore del bottino. 20 euro in monete, peraltro custoditi in un armadio con lucchetto e qualche scatola di biscotti, oltre a due di merendine. Per un'associazione come la vostra che fa del volontariato, la propria missione personale, l'intusione di stanotte deve essere stata un colpo al cuore. Sì, effettivamente l'abbiamo vissuta proprio come una violazione, una sorta di spregio inutile, come sono tutti gli spregi, anche perché qui non c'è veramente niente da portare via. A fare male è proprio il fatto che l'associazione Amici delle Mura, da 12 anni, svolge un ruolo primario nel sociale. Noi siamo un'associazione socioculturale, abbiamo dato la possibilità a moltissime persone, ora sono più di 50, di passare il loro tempo qui tutti i giorni, quindi di avere un appuntamento quotidiano che serve a prolungare la vita e a far stare meglio. Facciamo anche iniziative intergenerazionali, ultimamente faremo delle iniziative anche con i ragazzi dell'allenamento, di integra brigata. Cerchiamo di far capire che i ponti vanno percorsi e questo è importante, che ci sia il ponte fra noi, quindi un valore di un'esperienza che va tramandata.